Campagna elettorale 2009 Priorité, continua il tour elettorale di Vittorio Prodi che oggi è qui a Riccione per incontrare gli elettori e i cittadini nella perla verde della mia Romagna insieme al cuore di Biancio e Carini, insieme agli amici del PD e alcuni dei candidati per le comunali insieme al professor Vittorio Prodi per incontrare gli elettori e i cittadini di questa città Grazie